L'Italia sta cambiando ad una enorme velocità e questo sia a causa della pandemia che ovviamente ha avuto ripercussioni molto negative ma ha anche cambiato le abitudini degli italiani, sia oggi a causa della guerra e della crisi energetica che ne consegue. Questo impone a tutti gli operatori in tutti i settori di adattarsi e rivoluzionare il proprio approccio strategico alla soluzione dei problemi e questo vale anche per le finanziarie regionali. Oggi le aziende che hanno retto meglio alla crisi sono quelle del settore del fintech e le finanziarie vogliono lavorare insieme a queste aziende in uno scambio reciproco di aiuti e di ammodernamento generale del sistema paese. La tecnofinanza è tra i nuovi modelli e strumenti efficaci che possano aiutare le imprese e i professionisti a essere competitivi sui mercati sia nazionali che internazionali. Lo ha detto a Pescara Michele Vietti, presidente di Anfir, l'Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, partecipando al convegno dal titolo L'innovazione che cambia l'economia, nuovi modelli e strumenti per competere, organizzato dalla FIRA, la finanziaria regionale abruzzese. L'innovazione è la chiave di volta per lo sviluppo, ha evidenziato il professore Vietti, che è anche presidente di Filombarda e fin Piemonte presidente di ACOP, l'Associazione Coordinamento Spedalità Privata. Le imprese del sistema Italia sono per lo più piccole e medie e a dimensione familiare. Questo è un limite ma è anche un vantaggio. Dobbiamo imparare a coniugarlo con la capacità di innovazione, continuare a fare impresa anche in una dimensione piccola ma adattarsi alle novità, dimostrare la capacità di cambiamento. L'evento si è aperto con gli interventi del presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, dell'assessore regionale allo sviluppo economico Daniele Damario e del presidente della commissione consigliare sviluppo economico Emiliano Di Matteo. Il governatore Marsiglio ha ricordato che la regione ha raddoppiato le risorse finanziarie a disposizione dell'innovazione. Oltre un miliardo e mezzo a disposizione. L'innovazione è sicuramente uno degli assi portanti insieme alla transizione digitale e all'economia verde e circolare. Su questo fronte affiancheremo altri strumenti come la fusione tra Fira e Abruzzo Sviluppo che ormai è arrivata al punto finale di discussione in Consiglio regionale di innovazione. Insieme alla carta degli aiuti che ha moltiplicato la sua presenza in Abruzzo da 250 a 720 mila abitanti coperti dalla carta degli aiuti che innerva in particolare di contenuti e di attrattività la zona economica speciale che è finalmente partita. Il presidente di Fira Giacomo D'Ignazio ha puntato l'attenzione sull'importanza del confronto tra gli stakeholders. Abbiamo voluto mettere insieme gli interlocutori istituzionali, accademici ed imprenditoriali per cercare di capire e sollecitare anche l'istituzione sul mondo della digitalizzazione e del dare sempre più servizi al mondo imprenditoriale e alla crescita della regione Abruzzo. Al simposio hanno partecipato anche gli economisti Alberto Bagnai e Giuseppe Mauro il quale ha ricordato quelli che sono i nodi ancora da sciogliere, le criticità che penalizzano la crescita del territorio abruzzese. Il modello di crescita deve passare attraverso tre grandi fattori. Il primo è quello infrastrutturale ovviamente, quindi completare alcune opere infrastrutturali per rendere la regione più moderna e quindi renderla più competitiva. Il secondo percorso riguarda quello innovativo, non per dubbio. Da questo punto di vista a mio avviso la regione presenta qualche difficoltà. Terzo elemento chiave di un percorso di crescita è l'efficienza del sistema bancario. Grazie a tutti.